Anche i nostri detti antichi dicevano tante cose. Occhi bassi per terra e cuore al cielo. Dicevano le nostre massime per i religiosi e per le religiose, ma anche per un buon cristiano. Occhi bassi a terra e cuore al cielo. Così dobbiamo vivere anche noi, fratelli e sorelle. Io mi fermo qui perché voglio proporre a ciascuno di voi questo atteggiamento forte, vitale per la nostra vita di ogni giorno. Quello che facciamo, come viviamo, si deve sentire, si deve percepire che siamo dei pellegrini in cammino verso il paradiso. E non gente che vivono così tanto per vivere, tanto per impiegare il tempo. Noi abbiamo una meta, e la meta è la santità, la meta è il paradiso. Padre Pio lo ha fatto e questo desidera da ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie. Grazie.